Ciao a tutti! Spero siate carichi, perché oggi continuiamo a parlare di congiuntivo, uno dei più grandi problemi per chi studia l'italiano. Il congiuntivo è il modo verbale della soggettività, quindi quello che ci consente di esprimere opinioni, dubbi, stati d'animo, desideri, insomma, tutto ciò che riguarda il nostro mondo interiore. Come saprete, il congiuntivo consta di quattro tempi presente, passato, imperfetto, trapassato. Nel nostro video precedente sulla morfologia del congiuntivo, ci siamo occupati di presente e passato. Oggi, invece, impariamo a formare l'imperfetto congiuntivo ed il trapassato, ma procediamo con ordine, quindi partiamo proprio dall'imperfetto dei nostri due ausiliari. Essere, avere. Per quanto riguarda il verbo essere, che io fossi, che tu fossi, che lui, lei fosse. Pensate, che noi fossimo, che voi foste, che loro fossero. Pensavo che foste fratelli gemelli. Avere, che io avessi, che tu avessi, che lui, lei avesse, che noi avessimo, che voi aveste, che loro avessero. Pensavo che tu avessi una casa a Milano. Piccola particolarità per riconoscere il tempo imperfetto congiuntivo sono le due S. Nella maggior parte dei verbi, all'imperfetto congiuntivo, troverete le due S. Vediamo, invece, cosa succede con i verbi che terminano in ARE. Questi verbi, all'imperfetto congiuntivo, prendono queste desinenze. E quindi, basterà vedere questo esempio, il verbo PARLARE, un verbo regolare. Basta prendere la radice e aggiungere le nostre desinenze. Ad esempio, non ero sicura che parlassero giapponese. Però, non dobbiamo dimenticarci dei nostri verbi irregolari, che come vedete sono FARE, STARE e DARE, che prendono delle desinenze diverse. Come vedete, di solito c'è la A, ma FARE, STARE e DARE prendono una E, le desinenze con la E, quindi fate molta attenzione. In più, FARE cambia, come sempre, la radice, prendendo una C per tutte le persone. Non sapevo che faceste anche i dolci. Sicuramente vi ricorderete che manca un irregolare, un verbo in ARE, che al presente congiuntivo era irregolare, e cioè ANDARE. Andare, invece, non fa eccezione al tempo imperfetto congiuntivo. Buono, no? Per quanto riguarda INVECE i verbi in ERE, queste qui sono le desinenze dell'imperfetto congiuntivo, da aggiungere alla radice del verbo, come per esempio il verbo CORRERE, quindi molto semplice. Non so chi corresse più veloce tra i partecipanti. Per quanto riguarda INVECE i verbi irregolari in ERE, per fortuna ci rimane soltanto BERE, che prende, come sempre, una radice differente, prenderà una V prima delle desinenze. PENSAVO CHE NON BEVESSERO ALCOOLICI. Quindi, per fortuna, ragazzi, all'imperfetto congiuntivo i verbi irregolari diminuiscono. E cosa succede ai verbi che terminano in IRRE? Saranno solo queste le desinenze dell'imperfetto congiuntivo, sia per i verbi come PARTIRE che per i verbi come FINIRE. Vi ricordate che al presente congiuntivo c'era la distinzione? Benissimo, all'imperfetto non c'è più. E quindi, come vedete, PARTIRE e FINIRE hanno praticamente le stesse desinenze. Pensavo che partiste dall'albergo soltanto nel pomeriggio. Però anche i verbi in IRRE hanno qualche verbo irregolare all'imperfetto congiuntivo, come per esempio dire, che come vedete cambia, come sempre, la radice, prendendo una C prima delle desinenze, desinenze che prendono effettivamente una E e non come di solito succede una I. per quanto riguarda invece i verbi modali, questi per fortuna all'imperfetto congiuntivo sono piuttosto regolari. Quindi, come sempre, radice, che nel caso di potere sarà POT, di volere VOL, di dovere DOV e di sapere SAP con l'aggiunta delle desinenze dei verbi in ERE, appunto. Non sapevo che volessero cambiare casa. Per quanto riguarda invece la formazione del trapassato congiuntivo, per fortuna, anche se sembra un parolone, è molto semplice. Basterà utilizzare l'imperfetto congiuntivo dell'ausiliare, e dunque ESSERE o AVERE, più il participio passato del verbo. Vediamo subito cosa succede ai nostri ausiliari, quindi ESSERE e AVERE. Ricordate sempre che ESSERE prende ESSERE come ausiliare, mentre AVERE prende AVERE. È quindi molto semplice, come vedete. Imperfetto congiuntivo dell'ausiliare e participio passato. Anche qui, stessa cosa. Soltanto non dimenticate che, quando utilizzate l'ausiliare ESSERE, dovete accordare il participio passato al genere ed al numero del soggetto. Pensava che fossimo stati noi a mandargli il messaggio, quindi STATI perché NOI è appunto plurale. Pensava che tu avessi avuto fortuna a trovare la strada giusta. ecco qui, invece, degli esempi di due verbi al trapassato congiuntivo. Uno, andare con ausiliare ESSERE, l'altro, fare con ausiliare AVERE. Ed ecco qui un esempio. Pensavamo che tu avessi fatto domanda per entrare nell'arma. Quindi, in questo caso, participio non cambia perché l'ausiliare è AVERE. Invece, con ausiliare ESSERE dovremmo accordarlo. E a proposito del nostro amato, odiato congiuntivo, non perdetevi tutti gli altri nostri video. Su come formare il presente ed il passato congiuntivo, ma soprattutto quando usare e quando non usare il congiuntivo, è un'altra cosa molto importante che prende il nome di consecutio temporum, dove vi insegneremo ad utilizzare i giusti tempi verbali dell'indicativo e del congiuntivo. Perché, a volte, si può fare confusione. Troverete tutti i link nella descrizione di questo video. Allora, per oggi la nostra lezione finisce qui. Però, se volete la spiegazione scritta e tutti gli esercizi su questo argomento, andate sul nostro sito www.learniamo.com, troverete il link diretto nella descrizione. Inoltre, per qualsiasi dubbio o richieste per nuovi video, mandateci una mail a info-learnamo.com. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace e iscrivetevi al nostro canale YouTube. Inoltre, continuate a seguirci anche su Facebook, Instagram e Twitter, per tante novità! And guys, if you think your Italian isn't so good, you can even send us an email or a message in English and Spanish or German or French. We will answer in no time! Cosa aspettate? Ciao!